Amore, che film avete scelto? No, stiamo girando il pallone, poi lui ha tirato il pallone giù e ha detto che sono aggiunta le monache. Ma chi è che gli ha detto le monache? Cosa ha detto? Ma allora le monache che non mi danno. Cioè, lui è andato al convento qui a suonare le suore? E' la mia mamma. Mi dite perché quando io magari mi assento per 30 minuti, stavo facendo una bellissima diretta, tra l'altro abbiamo fatto con Aldo Vitali, finisco, vado, chiedo? E mio marito mi dice no, Guido Alberto, è andato a recuperare il pallone e guida le suore. Ma dico io no, ma vuoi stare attento tu? Vuoi andare a parlare tu con le suore? Lo vuoi fermare? E' come se fosse tutto normale. Scusami, dove si è andato? Dove si è andato? No, io... Dalle suore. Dalle suore? No! Sì, dalle suore, il pallone... Come mai è tornato il pallone? Perché dalle suore. Le suore l'hanno buttata?